Un'emozione speciale quella che alleggiava stamattina sul Teatro Maruccino dei Chieti. Intanto per le note di Mascagni, l'indomita cavalleria rusticana, poi per il ritorno di un figlio al prodigo, il direttore d'orchestra Simone Di Felice, teatino di nascita e attuale Kappelmeister dell'Opera di Francoforte. E infine per gli studenti, oltre 400, delle medie e delle superiori e universitari, che hanno potuto assistere alla prova generale accompagnati dai docenti. E venerdì 18 e domenica 20, Cavalleria rusticana sarà in scena per tutti, secondo appuntamento della coraggiosa stagione lirica del Maruccino. Cogliendo l'occasione dell'anniversario di Giovanni Verga, che ha scritto la novella Cavalleria rusticana, la quale si ispira proprio l'opera di Mascagni, abbiamo cercato proprio di intervenire nelle scuone, in istituti comprensivi e nell'università per coinvolgere i giovani con questo collegamento multidisciplinare, che poi ci ha permesso effettivamente di scoprire che c'era tanta voglia, tanta voglia di venire in teatro. E come ha ben detto lei, i giovani sono stati veramente entusiasti di questo nostro allestimento. Questo è stato anche un po' inaspettato, perché è la prima volta che ci avviciniamo così tanto, in maniera anche così diretta. E pensate che già per il Don Pasquale abbiamo già il pienone per la generale del Don Pasquale, che sarà tra l'altro il 7 dicembre, quindi c'è ancora tanto tempo. In più c'è un grande direttore d'orchestra, Cappelmeister all'Opera Frankfurt, il maestro Simone Di Felice, che si è formato in questo teatro, ha iniziato qui a studiare proprio direzione d'orchestra, ma soprattutto a collaborare nell'ambito operistico. Straordinario, meraviglioso, elegante, siamo felicissimi che lui faccia il suo debutto con Cavaliere rusticana a Chieti con noi, al Teatro Maruccino. Tra l'altro un allestimento molto particolare. Segnaliamo che è un allestimento assolutamente innovativo, noi abbiamo fatto una collaborazione produttiva con il Teatro di Livorno, il Goldoni, il Festival Mascagni, quindi questa è una produzione che è stata già allestita a Livorno, sulla terrazza Mascagni. Allestimento molto particolare, quello voluto dal regista Danilo Capezzani, che ha immaginato il sogno di Turiddu. Un'idea che ha stregato lo stesso direttore d'orchestra, Simone Di Felice. Un'emozione indescrivibile direi, perché dopo tanti anni all'estero, io lavoro soprattutto a Francoforte, in Germania in generale, in Austria, ho appena avuto il mio debutto a Parigi all'Opera, un mese fa, ma il ritorno in Patria è sempre qualcosa di eccezionale, veramente di particolare. I ragazzi delle scuole presenti oggi, credo che tanti di loro abbiano fatto la loro primissima esperienza con l'Opera, con questo capolavoro che è forse tra i pezzi più adatti per avvicinarsi a questo mondo, perché è un pezzo di forti passioni, un pezzo breve che brucia questi temi della passione, del delitto, della gelosia in un'ora di musica, molto velocemente. di non aver peccato...